Gianluca Pini, tutto è pronto per la festa della Lega Norda Romagna, dove si terrà e quali ospiti verranno? Una festa molto importante, quella della festa nazionale di quest'anno, che si tiene per il secondo anno consecutivo a Piazzale dei Salinari, a Cervia, diciamo fra Cervia e Milano Marittima, quindi una località turistica molto nota. Uno scorso è stata un'ottima festa, riuscita, perché è basata più che altro su dibatti, su incontri, al di là degli ospiti nostri. Quest'anno si parte subito forte con Flavio Tosi, che viene a aprire la festa mercoledì 30. Il giovedì avremo un dibattito molto carino, perché sarà, dopo tanto tempo, ritorna su un palcoscenico politico Oscar Giannino, che si confronterà con il nostro Giancarlo Giorgetti, moderato da Giovanni Bucchi, un giornalista economico della Voce di Romagna, che ha scritto anche un libro che si chiama Euro Romanzo, parleranno appunto di euro, di economia e di tutto il resto. Venerdì ci sarà Matteo Salvini con il suo comizio, sabato invece sarà presente il neo capogruppo, qui alla Camera Massimiliano Fedriga e l'ultima sera, cosa in cui abbiamo lavorato tanto e spero che riesca, che faccia un po' da trampolino per quello che è il dibattito politico dell'estate, il confronto con Matteo Salvini, Raffaele Fitto, Giorgia Meloni e Nunzia De Girolamo, quindi i quattro rappresentanti di quello che dovrebbe essere il centrodestra, per capire se ancora di centrodestra si può parlare o se invece, come molti pensano, è di fatto morto e bisogna superarlo in maniera diversa, però noi pensiamo che comunque tutto passi dal confronto di idee, pur magari ognuno rimanendo nelle sue. Quindi questa sarà la serata conclusiva, la serata anche organizzativamente più difficile. Non abbiamo ancora il nome del moderatore, ma sappiamo, ci sta lavorando l'ufficio stampa, sappiamo che sarà un big dell'informazione e quindi direi un ottimo programma anche quest'anno per la Romagna, che insomma in quanto a feste si è sempre distinta per cercare appunto di stimolare questo tipo di incontri e di dibattiti. Anche per i buon gustai, non soltanto piadina romagnola ma tanto altro. Sì, diciamo che abbiamo cercato di fare un qualcosa di semplice ma legato alla tradizione, e quindi ci sarà del pesce, ci sarà la piadina, ci sarà tutto quello che viene dalla nostra terra e dal nostro mare, perché è comunque una risorsa, una risorsa a certe volte un po' abistrattata e l'ospitalità romagnola sta anche in questo, nel far provare tutti quelli che arrivano per la prima volta o che tornano, perché sono stati bene in Romagna, quelle che sono anche le tradizioni culinarie che sicuramente da noi non mancano.